Con noi sul palco musicista che però si è già invitato, quindi è già sul palco Giovanni Di Cosimo dalla Tuscia. Amici, per chi non li conosce e anche per chi li conosce, comunque Stefano Micarelli ha le tastiere. Tante tastiere. Federico Nespola ha la batteria. Paolo Pecorelli, al basso. Io sono Emanuele Bottrini, alla chitarra. E Giovanni Di Cosimo, per l'appunto alla tromba. Il prossimo è un brano del nostro, ultimo, nel senso più recente, il disco più recente, il terzo. E' un brano sulle onde gravitazionali, nel senso che si intitola Gravity Wave. E' un 연co health show. Luca pensione. E' unOUno. E' un'unico che si intitola, ogni giorno. Edici, arrivò. E' un'unico che si intitola, il tutto più subito. Il lorofindò sì che min Utolini, allaórzING il suo grado di Venombiano. Il mio CS, è un'uico che si intitola. Mazz Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.